Dottor Sferruzzi, oggi tavolo rotondo dedicato all'industria che verrà, si è parlato tanto di sostenibilità, come Talent Garden affronta questo tema? La sostenibilità per noi è un tema sicuramente non nuovo ma molto importante e maggiormente sentito in questo periodo. Se guardiamo al futuro sicuramente gli ingredienti per un'impresa di successo sono il digitale del quale ci occupiamo, ormai una parola chiave utilizzata da tanti anni e più che riconosciuta e concepita come effettivamente l'ingrediente che può aiutare le imprese del domani. Un altro elemento chiave è la parte umana, le persone al centro sono all'interno della nostra azienda un elemento di sostenibilità e quindi di successo per il futuro e per noi è un elemento chiave ma lo è per tante aziende che vediamo all'interno del nostro network avere successo, quelle che mettono il consumatore al centro, i dipendenti al centro eccetera eccetera e forse un terzo ingrediente che è un po' la sintesi di questo concetto è l'equilibrio, cioè come queste due componenti tecnologia e natura, tecnologia e uomo eccetera interagiscono in un perfetto equilibrio. Ci chiamiamo Talent Garden, il giardino per noi è la metafora di un ambiente in perfetto equilibrio dove tutti gli elementi si contaminano l'un l'altro ma allo stesso tempo si mantengono in equilibrio e allora mantenere questo equilibrio e quindi rendere questo ecosistema sostenibile è la vera sfida del futuro.